Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo video questo è un make up tutorial alla luna riflessa nel mare che vi dico che l'ho preso da Cleo Makeup è un show look quindi non è che dite no, lo dico specificamente l'ho preso da lei mi è piaciuto l'ho voluto riportarlo su di me non sarà perfetto come il suo non mi interessa se non mi piace non me ne frega quindi vi lascio la sigla alle foto e al tutorial per questo video è tutto ci vediamo stasera con l'Inetai mentre vi lascio la sigla 3,2,1 sigla ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ciao a tutti e bentornati a questo nuovo video oggi faremo un nuovo video make up tutorial utilizziamo sia la labla la collezione artica e la intensissimi ovviamente sono queste le mie palette questo è uno inizio a fare l'occhio adesso e poi ci vediamo per il sinistro come al solito a tra poco eccomi tornata adesso ecco sto aspettando che si asciuga un attimo il mascara iniziamo con un attimo ok devo fare un pennellungola di neve che è questo qua allora iniziamo io ho preso il MAPLETINAVORA e BALTICO scusi scusate c'è il fulmine no faccio questa parte qui ok guardate guardate il interno guardate il interno poi prendo la paletta in tessis prendo il blu, il nightlife, questo qui, prendo il fronte con il mio pannellino angolare, ecco via l'accesso e continuo a fare sopra il blu, faccio solo le luci, non sono meravigliose, poi riprendo il blu baltico di neve, di sinneve di nabla, cosmetics, e ricalcoli uno sopra e farlo ancora più scuro. Grazie. Chiudo, prendo il mio pannellino numero 8, linea di egypt, so che non si vede, no, che pizza, lo bagno con l'acqua, prendo il frozen con l'argento, questo qua chiaro, e lo vado a picchiettare al centro della piega. Grazie. 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 Eccomi. Adesso ho messo in mascara, e ho commisciato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo tra poco, ciao ciao. Il look è finito, ho utilizzato come il rossetto rosa di Bottica Verde, non si vede, ma è questo qui. Ho fatto vedere i miei video precedenti swatchati, quindi andatevelo a vedere, sono i vecchi video. Questo look... Questo look l'ho preso da Io. Questo è il look che lei aveva fatto tanti anni fa, la luna nel riflesso del mare. Ho voluto riprodurla, perché ho detto così, proviamoci, non costa nulla. Quindi questo make-up lei l'ha scritto in inglese, io lo scrivo in italiano. Ovviamente mi sono ispirata a lei perché mi piaceva tanto questo make-up quando l'aveva fatto, tanti anni fa. E... è tutto. Questo è il make-up, la luna riflessa nel mare di Glow Make-up. L'ho riportato su di me, ho voluto riprovarlo, mi è venuto. Non dico che sia alla perfezione come fa lei, però uno ci prova. Basta, questo video è tutto. Iscrivetevi al canale, vi aspetto se sei la beccacolina e tai mi. Scusate, il telefono... Mi scappa, scusate, ecco, questo è lui con endofrignia. Fulmine. Per questo video è tutto, ci vediamo stasera piccolina e tai mi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima! Beh, vai lì. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.